bella a tutti ragazzi qua è Ultra Soch è il mio scotch ragazzi quello che sentite è il mini scotch che si sta rifugiando da qualche parte in un posto segretissimo perché quelli dei pandistelle lo stanno cacciando per tutto il mondo eh dillo dillo mini scotch e gli ho detto di chiamare il telefono azzurro ma sono tutti in complotto contro di lui allora ragazzi come promesso ecco qua con lo fisi ghost allora ragazzi come prima ecco grazie che voce di merda che c'ha grazie per i 20 iscritti ragazzi ecco grazie per i 20 iscritti grazie per le 700 visualizzazioni di GTA grazie grazie ragazzi allora 800 800 allora come promesso eccoci qua su Call of Duty Ghost eeeh eeeh miniscotch ha laggato un pochettino eeeh vabbè comunque stavo dicendo che faremo faremo la modalità estinzione eeeh eccola qua perchè è una modalità nuova e vorremmo farvi vedere come com'è questa modalità cioè io non ci ho mai giocato questa è la prima volta in diretta che gioco a estinzione quindi non ho la più pallida idea di ok da quello che vedo si può giocare anche su Xbox Live eh già eh noi ci mettiamo la bellezza di 30 ore per fare un video eh velocissimi allora proviamo Xbox Live partita pubblica potete vedere sono a livello 1 non ho mai giocato estinzione point of contact vediamo questo in attesa 50 partite valide 0 di 50 minchia c'è tanta gente che ci gioca ragazzi sono l'unico no aspetta forse tentativo di accesso servono altri due giocatori ok ok ragazzi sono entrati questi questi due tizi ti ha laggato un casino la voce miniscotchi che sei detto ripeti va bene ragazzi lasciamo stare che non si sente miniscotchi è morto poverino e quelli dei pandistelli li stanno bloccando le comunicazioni ok sta partendo ragazzi vediamo cos'è sta estinzione potenzia la classe medico per diventare immune al gas benefico degli scorpioni oh my god boh non lo so che sono questi scorpioni è la prima volta che lo si vabbè si si sono i capi proprio ok ho una pistolina sono appena sceso da un cazzo di elicottero si lo riporterò qui il culo piazza la trivella qui oddio che trivella questa qui che figata ragazzi what a bug oddio oddio ci sono gli alieni oddio ragazzi che minchia oddio altro che alien oddio ok mi son ripreso si possono coltellare sti cazzo di alieni non stavo chiedendo attento non conti niente contano solo gli youtuber qua meno male che ti lagga la voce perché mi avrai di sicuro insultato no no poco ok ci sono tipo gli alieni sul tetto avete visto ragazzi era lì è scomparso ma visti che cazzo fanno cos'è sta roba cos'è una bomba cos'è dai smetti ci sono anche bambini che ci seguono what the bug boh escono le fiamme teniamo gli occhi aperti non siamo soli quanti di questi codici saranno ah mi ah cazzo è una bombola del gas almeno ci lasciavo le penne raga ma le pistole infinita no ecco sono più 11 colpi ma quando finisco i colpi dove cavolo li prendo gli altri si può sapere oddio cos'ho preso per utilizzare punti abilità che punti abilità munizioni oh my god oh my god ragazzi oddio raga raga oddio ok ce l'ho fatta sono senza munizioni che faccio ah ho dato le munizioni alla squadra grandissimo pro gamer ragazzi ma perchè gli altri hanno hanno dei mitra dove li hanno presi non mi sembra giusta sta cosa però eh si prendono al muro come in zombie dove cazzo si prendono ah guardate qua che cos'è sto coso crediti insufficienti quanto costa 1500 e io quanto quanto ho 220 che schifo è ora di farci un po' di punti ragazzi mi stanno prendendo da dietro no dimmi mini scotch sempre che parli ma stai zitto due secondi che questo c'è già la torretta robot what up c'è già la torretta mitragliatrice c'ha ma perchè questo mi spara ma che problemi ha ma lo coltello c'è questo mi spara cazzo eh come gli alieni boh sono fatti sono uguali a quelli di alien versus predator lì sono tipo degli esseri a quattro zampe eeeh che ti vogliono ti vogliono mangiare il cervello che ne so ti vogliono sono fatti in un modo troppo strano dal niente dal nulla dai tetti boh dal nulla saltano fuori poi sono velocissimi sono ho 1300 ragazzi per poco mi vado a prendere il fucile ma non so neanche quanto dura sta partita perchè non vorrei che durasse come zombie che andiamo avanti gli 20 round what a bug oddio si si piuttosto tagliamo ma forse ho 1500 vediamo eccolo qua ragazzi è un fucile pompa è un pompone ragazzi boom one shot ragazzi doppia un po' di alieni mi dicono giusto giusto quelle 300 oddio oddio sto ricaricando alieno fatti fatti tuoi sto ricaricando bravo hai capito tutta la vita ma com'è ad ondate ragazzi arrivano all'infinito è ad ondate tipo tipo zombie però non finiscono mai devi sopravvivere all'infinito perchè non finiscono mai ah ma forse devi finire la trivella qua appena finisce andiamo avanti ho 1200 chissà se posso prendermi le muni per acquistare ma ce l'ho già uno cosa voglio acquistare ma che problemi ha io per ricaricare le munizioni esplosive munizioni prese perfetto aspetta questa la posso ricaricare vediamo no ma chi è che mi sta colpendo ma si può sapere c'è una scossa che mi arriva addosso un'altra trivella ma che cavolo stiamo trivellando qua cosa c'è un M un MR28 costa 2000 non ce li ho i soldi boh è uno zombie ma non mi sembra granché ragazzi mi sembra mi sembra abbastanza una cavolo assurda proprio ma perché eh muori oh che cazzo che la nostra trivella oh ma guarda queste ma si mangiano le trivelle oh ma non gli viene mal di stoma ma si ma perché boh gli alieni sono tutti cioè sono tutti uguali così devi solo devi solo spararli e ti arrivano così a muzzo non non vedo non vedo bibite o armi strane che puoi usare contro gli alieni ah un'altra cosa ragazzi no niente niente lasciate stare volevo dire una cosa sul multigiocatore ma vi faremo un gameplay anche sul multigiocatore adesso volevo farvi sto gameplay su questa nuova modalità però non mi sembra granché eh miniscotch mi sa che è meglio stai zitto non si sente niente di quello che dici no dai però cerca di parlare piano scandisci bene ma muori ma cos'è sembrava più grande degli altri oddio muori ma che problema dai vieni vieni in volo munizioni esplosive usate non ci sono più da ricaricare what oh ma costa 1200 ma perché le devo mettere sempre io non è giusto azione non disponibile mentre tieni quest'arma cosa cosa miniscotch non non ti sento mini ragazzi un po' noioso devo dire non è granché non ti sento non ti sento buggy da paura buggy ma proprio da paura in arrivo un elicottero punti abilità ma che fanno questi danni proietti ho 4 punti abilità usiamoli ricaricare armi a proiettili fino al 70% delle munizioni massime esplosivi di squadra torretta mitragliatrice gli scorpioni oddio dove sono questi scorpioni cavolo c'hanno l'acido mortale non lo so non c'è la vita ti vengono le cose rosse oh mi ha messo mi ha messo mi ha messo il il coso per per la pistola avete visto raga c'ho la mitra c'ho la getlin la piazzo no questa 1500 no 1100 ma magari la piazzo chi però non so che cavolo devo fare qua c'è l'elicottero che spara ma eccoli 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 li vedete raga sono velocissimi oh my god mi sa che è meglio che mi prendo il fucile a pompa qua perché due colpi per per un per uno scorpione da quando dimmi dimmi mini scotch cosa mi volevi dire mini scotch dimmi prova a cosa mini scotch non sento un tubo di quello che stai dicendo l'hai capito vero morire ma perché devo morire e mi sa che fra un po' muoio con tutti questi scorpioni guarda non non c'era neanche da chiederlo meno male che c'ho il pompa faccio la strage altro che mitra qua si va di pompa oh guarda questo è morto ragazzi guardate come si rianima sto rianimando ok eri in piedi si è uno zombie più moderno diciamo è quella zombie rianimi oddio chi è che mi sta sparando scorpione schifoso dai tre colpi mi ha fatto sprecare sto scorpione dai 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 ricarica chissà chissà se c'è un punto abilità per la ricarica se c'è me lo devo troppo mettere munizioni esplosive pronte dai 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 oddio oddio ragazzi ma guarda ah ma bisogna sparare sti cosi ma va sono forse l'unico che non è ancora morto ho 5.000 di denaro ma io mi tengo il pompone mi tengo con due colpi killo invece col mitra scarichi tutto il caricatore scarichi due colpi e faccio stragi proprio ho preso pure il denaro mo 6.000 gli ho pure fregato il denaro quello lì come se non bastasse quello lì si è andato da solo lo vedete attraverso il muro è stato da solo se n'è andato qui c'è una mitragliatrice chissà se si può si si può però non riesco vediamo se si può salire da qui si ecco vediamo no 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 oddio oddio sto morendo esci 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 sono morto Gabri eh si mi scopo sono morto dici no vabbè finiamo finiamo che dici mini scotch perché boh mi sembra un po' una palla oh ragazzi finiamo qua con la modalità estinzione sinceramente mi fa abbastanza schifo come modalità e quindi boh vi piazzo una mitraglietta prima di andare ma la devo usare per forza io con la mitragliatrice lì ma muori schifoso vabbè allora ragazzi eh concludiamo qui il video eh ci vediamo nel prossimo gameplay che sarà il multigiocatore che è molto più figo di questo mi fa un schifo comunque magari a voi piace a me sinceramente mi fa abbastanza schifo allora boh ragazzi commentate iscrivetevi e ci vediamo per il prossimo video che sarà su il multigiocatore di Call of Duty Ghost bella ragazzi un saluto da Ultrasocci e Mini Scotch ciao